Musica Bentrovati a tutti voi, avete visto in una veste completamente rinnovata il nostro format The Line, Above and Below Marketing, allora siamo ancora qui per aprire la parentesi, una parentesi molto interessante nella puntata di oggi rispetto alla parola chiave di questo nostro programma che è marketing naturalmente e che oggi vedremo declinato in un settore particolare che è quello assicurativo, cercheremo di capire che cosa significhi fare marketing oggi proprio nel comparto assicurativo alla luce anche dell'evoluzione dei cambiamenti che ci sono stati in questo ultimo anno, anzi ormai un anno e mezzo e allora io vado subito a presentare le ospiti perché sarà una puntata del tutto femminile e io sono molto contenta Arianna Nardi, responsabile marketing di General Italia Arianna, bentrovata, grazie per essere con noi Grazie a voi, grazie a te Emanuela, buongiorno a tutti Elisabetta Pavan, responsabile digital content management and go to market di General Italia Elisabetta, ovviamente grazie anche a te Grazie a voi e buongiorno anche da parte mia E bentrovata anche a Paola Cozzi, responsabile brand advertising and lead generation di General Italia Grazie Paola Grazie anche da parte mia e bentrovati E allora io partirei proprio dal termine cambiamento ovviamente marketing è parola chiave, cambiamento però è una parola che abbiamo utilizzato tantissimo in questo anno e mezzo e partirei da Arianna per chiedere proprio come è cambiato il marketing in General Italia in questi ultimi anni, ampliamo un po' l'ambito di indagine, Arianna Allora, mi piace pensare a questo tratto di storia di questi ultimi due anni e mezzo come il fatto che abbiamo rivoluzionato il modo di fare il marketing all'interno di un settore come il settore assicurativo Io credo fermamente che il marketing sia il più bel mestiere del mondo nel momento in cui riesce a far accadere le cose e quindi perché questo possa accadere è necessario che il marketing comprenda e supporti il cambiamento che è in atto e per fare questo bisogna mettere davvero al centro dei propri pensieri e delle proprie azioni il cliente non come frase fatta quindi non come frase da manuale e bisogna al centro il cliente cambiare i processi di costruzione dell'offerta a lui dedicata insieme naturalmente a quello che è il modello distributivo di appartenenza e quindi in questo caso insieme alla nostra rete di agenti e di consulenti sul territorio questo perché tutti insieme si possa gestire al meglio la relazione con il cliente quindi ci sono alcune parole chiave in particolare il concetto del cliente al centro e della gestione della relazione con il cliente che sicuramente hanno animato tutto lo sforzo di questo periodo Certo tu hai detto infatti non ha una frase fatta io credo proprio che bisogna partire da quanto è cambiato anche il rapporto tra i vari attori in questo caso visto che parliamo del settore assicurativo nel settore assicurativo e sono cambiati anche il contesto e la domanda insomma rimango ancora un istante da te Arianna perché la rivoluzione del marketing di cui ci hai parlato e che apre questa puntata come ha reagito a questi cambiamenti? Perché è un cambiamento continuo da tutte le parti in questo senso cosa ti senti di rispondere? Allora con una piccola provocazione se posso quindi che mi fa dire che io non credo che le persone siano cambiate di più credo che i bisogni si siano amplificati ma i nostri bisogni restano sempre gli stessi come persone solo che li sentiamo di più quindi c'è la necessità ancora più forte che in altri momenti di ascoltare le persone e fornire risposte che siano in linea con i loro bisogni ecco perché in fondo questa è una grande rivoluzione del marketing perché dobbiamo essere davvero capaci di consentire all'azienda di entrare in relazione con le persone e questo è il punto, il cuore di tutta l'azione del marketing Ok, questo è un concetto molto interessante che vorrei girare anche Elisabetta Allora Elisabetta, Arianna ha anticipato proprio che la rivoluzione ha riguardato un po' tutti ma ha toccato indubbiamente anche il modo di comunicare Andiamo subito a definire quali sono state le principali innovazioni quindi dove si è percepito maggiormente questo cambiamento Guarda, mi riallaccio al tema dell'ascolto per rispondere alla tua domanda di cui Arianna ha già parlato Per innovare il nostro modo di comunicare noi siamo partiti da... abbiamo deciso di lavorare su canali e con contenuti che ci consentissero di trasformare i bisogni che avevamo intercettato dei clienti in risposte, in soluzioni Per quel che riguarda i canali, i social in particolare sono stati il nostro primo punto di atterraggio e sono i canali che per eccellenza ci consentono di ascoltare quello di cui hanno bisogno le persone di generare una relazione e quindi di poter rispondere con messaggi puntuali ai loro bisogni e sono appunto anche quelli che ci consentono una reciprocità e quindi questa reciprocità ci consente di lavorare sulla relazione che attraverso una sorta di circolo virtuoso ci consente poi di essere sempre più pertinenti più precisi rispetto alle esigenze che loro hanno Questo percorso di amplificazione della nostra presenza anche sul territorio digitale noi l'abbiamo fatto assieme alla nostra rete di vendita e questo ci ha consentito oggi, ci consente oggi di comunicare con più di 1200 account totali Abbiamo lavorato anche sul modo di costruire i contenuti per essere sempre più vicini ai bisogni come ci siamo detti prima ma anche sempre più immediati più semplici da comprendere perché il prodotto assicurativo potrebbe essere di difficile comprensione in alcuni casi per questo ci siamo focalizzati non solo attraverso la relazione dell'ascolto ma anche attraverso la costruzione di storie e quindi a partire dai nostri clienti in un racconto nuovo, rinnovato che parla di persone, di famiglie e di lavoro ci siamo insomma fatti portatori di un approccio ai canali social integrato e sinergico che ci ha consentito anche di farci trovare pronti quando in un periodo come il 2020 i canali social sono diventati il principale modo di comunicare delle persone considera che tra i canali della compagnia e quelli delle agenzie i nostri contenuti sono stati visti più di 13 milioni di volte e abbiamo generato più di 550 mila interazioni continuiamo a lavorare sulla semplificazione del linguaggio e continuiamo a coinvolgere la nostra community perché vogliamo che attraverso loro vogliamo costruire delle esperienze memorabili che rendano tangibile il nostro modo di esprimere la protezione la vicinanza e di alimentare la relazione ecco, questo beh, Elisabetta direi che ha toccato un tasto fondamentale a proposito di innovazione e di tecnologia che ha accelerato anche la sua corsa proprio nel periodo che abbiamo vissuto e qui voglio approfondire un tema di cui abbiamo parlato innumerevoli volte ma che adesso guardando al futuro diventa ancora più importante perché dobbiamo concentrarci su quello che è stato aperto e su quello che verrà allora, Paola, parlando proprio di canali e messaggi ricominciamo da quello che ci stava raccontando Elisabetta abbiamo due poli, chiamiamoli così cioè l'ibrido, scusate, il digitale e il territorio quindi il fatto di essere presenti fisicamente e il fatto invece di essere, come dire, collegati da remoto non è un'espressione che utilizziamo ormai da tempo possiamo dire che questa rivoluzione vi ha parlato di essere ibridi eccola qui la parola che ho anticipato prima tra questi due poli? allora, sicuramente se parliamo di comunicazione sì, nel senso che per noi la rete la nostra rete agenziale continua ad avere un ruolo centrale ed è il fulcro di tutto quello che è poi la relazione con i nostri clienti ma per riuscire a raggiungere clienti e potenziali clienti in termini di comunicazione siamo dovuti abbiamo dovuto effettivamente effettuare un cambiamento vi faccio qualche esempio soprattutto nel periodo pre-pandemico se vogliamo considerare gli eventi effettuati dalle nostre agenzie sul territorio che dimostrano proprio quella che è la vicinanza la presenza delle nostre agenzie su tutto il territorio italiano contavamo circa 2000 iniziative all'anno sul territorio è chiaro che da quando siamo stati costretti a non poter più utilizzare in modo così assiduo il canale fisico e quindi la presenza e la vicinanza fisica automaticamente abbiamo dovuto pensare a come poter continuare ad essere vicini ai nostri clienti poter permettere anche alle nostre agenzie di essere vicine ai loro clienti e come dicevi giustamente tu questo periodo pandemico ha davvero accelerato tutta una serie di utilizzo di tecnologia a supporto quindi abbiamo creato alla velocità della luce devo dire tutta una serie di format di eventi che le agenzie hanno potuto utilizzare tramite il digitale quindi si sono attivati nel coinvolgere clienti e potenziali clienti ad assistere a quelli che potevano essere dei format di eventi digitali di valore per il cliente abbiamo continuato a parlare di elementi importanti di vita quotidiana quali la corretta alimentazione il fare attività fisica pur essendo in casa tutti messaggi di supporto di prevenzione di vicinanza e di presenza che non potendosi esplicitare in modalità fisica si sono trasmessi in modalità digitale per noi questo è un elemento fondamentale e oggi che abbiamo ripreso a fare delle attività fisiche non abbiamo abbandonato l'elemento digitale ma offriamo proprio anche questa opportunità ibrida quindi ci permette anche di avere maggiore disponibilità di posti quello che prima magari in una sala aveva un limite di 50 persone adesso grazie al digitale il limite è totalmente superato perché oltre alle 50 persone in sala hai la possibilità di estendere la partecipazione anche alle persone a casa tramite il digitale raggiungendo numeri di contatto proprio di clienti e potenziali clienti nettamente più alto certo questo chiaramente ci permette di essere considerati ibridi in quella che è la comunicazione e la relazione nelle nostre iniziative certo che poi sembra una cosa talmente banale perché non ci abbiamo pensato prima che potessimo fare una cosa del genere cioè fisicamente ma in più anche dare la possibilità a chi non può esserci fisicamente di collegarsi in streaming da remoto insomma come preferiamo dire ecco diciamo che qui abbiamo dato un esempio concreto molto terra terra però importante di come questo periodo abbia anche non solo accelerato determinati processi ma abbia fatto riflettere su alcune questioni che avremmo potuto come dire utilizzare anche prima bene da questo punto di vista mi sento di dire bene a questo punto noi abbiamo parlato di contesto e domanda di modo di comunicare a questo proposito sempre riprendendo le parole di Paola parliamo dell'offerta però vado da Arianna restiamo sempre su esempi concreti se siete d'accordo così andiamo proprio mirate alle questioni esempio concreto della rivoluzione del marketing in generale Italia naturalmente nel processo di revisione dell'offerta perché appunto parlavamo di un'offerta che inevitabilmente si è modificata sì esatto abbiamo sosteniamo il fatto che l'offerta si è modificata perché è stata concepita proprio a partire dai bisogni dei clienti quindi cambia il fulcro no? cominciamo a concepire proprio il racconto a partire da quella che è il bisogno espresso dal cliente è interessante perché Elisabetta ha parlato di canali digitali di grammatica con cui di parole con cui andare a raccontare questi contenuti Paola parla di modalità ibride quindi di fisicità ma è anche di canali digitali con cui e quindi attraverso i quali esserci e portare questi contenuti i contenuti di cui stiamo parlando sono appunto le nostre soluzioni di offerta che devono ovviamente essere cucite addosso quelle che sono le esigenze dei nostri clienti allora siamo andati in questo periodo ad esplorare quelli che sono i bisogni principali dei nostri clienti delle persone abbiamo rivoluzionato completamente il modo di fare assicurazione allora prendiamo un esempio anzi facciamone due il primo la pandemia sicuramente ci restituisce diciamo prima non dei nuovi bisogni ma dicevamo dei bisogni amplificati sicuramente il bisogno di salute e di benessere è qualcosa che forse adesso sentiamo più forte di prima i clienti cosa ci chiedono ci chiedono di avere una copertura infortuni e malattia che sia unica non distinguono tra l'uno e l'altro perché c'è l'esigenza di stare bene ci chiedono di avere i servizi a portata di mano e quindi quando parliamo di prevenzione quando parliamo di check up preventivo di avere la possibilità di farlo vicino a casa ci chiedono di proteggere la cosa che le persone hanno di più caro cioè la vita dei propri familiari del nucleo e quindi diciamo in generale dei figli della famiglia quindi avere una visione a 360 gradi non solo della persona ma di quello che sta intorno alla persona il tema della protezione del reddito cioè il fatto che a fronte di eventi importanti nella vita viene meno proprio per certe persone magari pensiamo le famiglie monoreddito la possibilità di fare fronte alle cure quindi di dare modo di proteggere la salute propria e della propria famiglia in generale c'è questo tema sentitissimo dell'integrazione del servizio sanitario nazionale ecco sono su questi bisogni che abbiamo costruito la nuova soluzione salute e benessere affinché potesse essere una soluzione modulare il cliente costruisce la sua playlist di protezione assistenza e servizi insieme al proprio consulente in funzione di quelli che sono i bisogni che lui senti in quel momento e in funzione del fatto che con il tempo lui questa playlist la può cambiare e in questo senso abbiamo fatto in modo che ci fosse un solo contratto una sola data di scadenza un solo momento di pagamento in modo che il cliente trovi in questo contenitore la gestione unica della relazione con la compagnia ok beh quando ci sono gli esempi si riesce più a comprendere anche come si è tradotto appunto in pratica tutto questo tutto questo cambiamento anche proprio nel comprendere come il cliente può essere agevolato in alcuni processi io resterei appunto sugli esempi Andrei da Elisabetta Pavan parlando di scelta dei canali quindi come si traduce questo cambiamento nella rivoluzione appunto cambiamento e rivoluzione insieme fanno qualcosa di enorme insomma rivoluzione nella scelta dei canali qualche esempio concreto anche qui Elisabetta Certo parto da Attiva Commercio la soluzione per gli imprenditori del settore commercio che abbiamo lanciato a fine gennaio 2020 per comunicare Attiva Commercio abbiamo sempre scelto un approccio integrato un po' come quello che ti raccontavo prima sì e in questo caso l'integrazione è avvenuta combinando canali generalisti a canali verticali sul target canali digitali a canali offline ad esempio abbiamo lavorato sui canali proprietari quindi i nostri account social il sito web attraverso contenuti che noi definiamo always on cioè continuativi dal momento del lancio che per la natura del canale ci hanno consentito però di essere aggiornati in funzione dei bisogni emergenti come ricorderai nel 2020 cioè il momento in cui abbiamo lanciato questa soluzione ha corrisposto anche in qualche modo all'inizio del periodo pandemico e sicuramente gli imprenditori del settore commercio ne sono stati molto colpiti abbiamo avuto la possibilità quindi di comunicare in modo coerente con l'evoluzione dello scenario e delle esigenze di questi imprenditori le garanzie più coerenti con i loro bisogni e lo abbiamo fatto appunto attraverso come ti dicevo alcuni canali generalisti vedi canali digitali come social e generali e il sito web di generali ma anche attraverso canali offline a questi abbiamo poi abbinato dei canali verticali perché abbiamo voluto esserci esattamente dove c'erano questi imprenditori e a ciascuno di loro abbiamo voluto parlare con un messaggio preciso e puntuale abbiamo quindi definito delle partnership editoriali che ci hanno dato la possibilità di lavorare verticalmente sul bisogno di sicurezza dal rischio informatico se pensi a quanto è esploso ad esempio il bisogno della consegna a domicilio e quindi della conseguente raccolta dati da parte di commercianti che magari prima non lo facevano piuttosto che la tutela del capitale umano perché per un imprenditore e il gruppo il team di persone che compongono la squadra è centrale e determinante e proteggerlo è una priorità o infine ad esempio esigenze più specifiche di tutela delle infrastrutture e degli investimenti che l'imprenditore ha deciso di fare per la propria azienda che noi abbiamo soddisfatto grazie alla garanzia che garantiva la protezione dei Deor come vedi anche in questo caso come ti raccontavamo prima tutto è partito dall'ascolto che è stato continuativo e dei bisogni e le risposte sono state coerenti con l'evoluzione dei bisogni nel tempo ok e beh poi torneremo guarda hai fatto un bell'assist su bisogni queste due parole bisogni relazione bisogni delle imprese relazione con il cliente e questo ci porta indubbiamente al nuovo modo di comunicare di cui accennavamo prima e su cui tornerei con Paola per parlare della definizione del messaggio proprio questo messaggio che si è modificato che deve arrivare probabilmente anche in modo diverso anzi uso il plurale in modi diversi anche qui ti chiedo un esempio concreto degli esempi concreti sì io prendo al volo l'assist di Elisabetta soprattutto legato al concetto del messaggio inteso come risposta a quelle che sono effettivamente le esigenze del cliente e bisogna mantenere le promesse che si fanno noi è già qualche anno che ci avrete visto attivi in comunicazione con un claims partner di vita che quindi vuol dire essere vicini ai nostri clienti in ogni momento fondamentale della loro vita che per noi vuol dire non essere vicini quando le cose accadono in una logica di risarcimento ma essere vicini prima per provare insieme ad evitare che le cose accadano quindi il concetto che Arianna aveva anticipato della prevenzione della vicinanza della presenza fisica o digitale che sia dei nostri agenti nei confronti della relazione che abbiamo con il cliente ci porta a dover sostanziare questa promessa in messaggi di valore perché la reputazione di un brand si fa proprio nel tempo quindi come diceva Elisabetta le evoluzioni delle aspettative cambiano di conseguenza le risposte si devono adattare a questa evoluzione e i messaggi allo stesso modo proprio per lanciare e comunicare al mercato la soluzione di attiva commercio di cui vi stava parlando Elisabetta abbiamo proprio scelto di farlo in modo in modo particolare rispetto al nostro stile di comunicazione perché abbiamo deciso di mettere come protagonisti proprio le storie dei nostri clienti in questo caso appunto parliamo di esercizi commerciali quindi coloro che effettivamente soprattutto in questo periodo pandemico hanno cambiato il loro modo di lavorare hanno sviluppato delle nuove esigenze abbiamo messo loro al centro abbiamo raccontato le loro storie le loro esigenze dimostrando quindi quella che era la risposta alle loro nuove esigenze assicurative e quindi quella che è la piattaforma che come diceva Arianna semplificata proprio per avere un unico contratto per essere vicini in caso di assistenza per poter dare tutte le risposte per fare in modo di dare un'unica soluzione che era appunto quella di Attiva Commercio e se volete vi ho portato un 15 secondi che possiamo vedere insieme certo direi assolutamente di sì andiamo a vedere questo video Mario vuole proteggere chi lavora insieme a lui Anna deve conoscere tutte le novità sulla sua attività per questo hanno scelto Attiva Commercio di General Italia contatta subito l'agenzia più vicina prima di sottoscrivere leggere il set informativo su generali.it generali partner di vita Quindi ecco attraverso questo video come dicevi Paola e do ancora la parola a te vediamo le soluzioni per le imprese a partire proprio dai bisogni degli imprenditori si agganciano questi due aspetti facciamo un passo ulteriore adesso però Sì perché proprio per dare valore a quello che era il messaggio e quindi elementi proprio di valore per il cliente abbiamo nella seconda parte dell'anno come vi raccontava Arianna ha lanciato la seconda soluzione dedicata all'ambito della salute anche in questo caso l'ascolto il mettere il cliente al centro le esigenze che cambiano ci hanno portato non solo a creare una soluzione in risposta alle nuove esigenze ma pensare a quello che potrebbe essere che poteva essere per il nostro cliente un elemento di valore e abbiamo realizzato uno spot da 15 secondi dedicato proprio a tutti i nostri clienti indipendentemente dalla soluzione assicurativa che hanno sottoscritto con noi regalando a ciascuno di loro un teleconsulto gratuito da poter utilizzare sfruttando semplicemente quella che è la app di My Generali in qualsiasi momento l'assistenza necessaria per poter sapere di avere una seconda opinion la possibilità di poter sentire l'opinione di un esperto sapere che Generalitalia è al tuo fianco per rispondere ad un tuo dubbio sanitario su cui in un qualche modo possiamo esserti vicino siamo un R in questo periodo quindi siamo in campagna televisiva però ve lo mostro lo stesso 15 secondi dedicati alla salute lo guardiamo si diceva prima il cliente al centro di tutto è peraltro il cliente che può sentirsi parte integrante della realtà allora vediamo questo video il nostro futuro è nella salute Generalitalia a cuore il benessere delle persone e regala a tutti i suoi clienti con qualsiasi polizza un teleconsulto medico disponibile in area clienti contatta subito la tua agenzia iniziativa soggetta limitazioni informazioni su generali.it generali partner di vita eccoci tornati in studio dopo questo video che come spiegavamo poco fa mette proprio lo avete visto insomma in evidenza la relazione con il cliente abbiamo parlato di cambiamento e di evoluzione proprio anche nel rapporto tra i vari attori delle situazioni che vi abbiamo raccontato allora io andrei da Arianna per andare verso le conclusioni e guardando proprio al futuro cioè ti chiedo quali sono le prossime fasi di questa rivoluzione che abbiamo affrontato nella puntata di The Line allora grazie di questa domanda guardare al futuro è sicuramente quello che stiamo facendo particolarmente in questo momento perché ce lo chiede la storia dobbiamo costruire il cosiddetto new normal che è una parola di quelle che cominciamo a sentire sempre più spesso e allora ci sono delle grandi lezioni che abbiamo imparato sono quelle che ci siamo detti in questa chiacchierata e le ripeto come capisaldi anche della nostra azione futura ascolto mettere al centro il cliente essere consapevoli che noi abbiamo la grande fortuna il grande privilegio di proteggere ciò che più conta per le persone la famiglia il benessere il lavoro il patrimonio il risparmio il concetto che questa protezione che peraltro fa rima con passione deve appunto essere trasferita grazie a questa rivoluzione che stiamo portando avanti come marketing con le parole giuste e da questo punto di vista come diceva Elisabetta abbiamo tanto imparato anche dalle nuove grammatiche digitali e social perché dobbiamo essere vicini ai clienti con parole semplici ma dobbiamo esserci anche nelle modalità che ha raccontato Paola quindi attraverso un concetto di ibridizzazione dei canali un po' fisici un po' digitali perché dobbiamo essere a fianco delle persone dove sono le persone dobbiamo essere sostenibili e questo è il punto fondamentale sia la base della nostra azione sia la base della nostra offerta ti direi in sintesi che il marketing oggi ha davanti una grande sfida che lo pone ad essere ancora di più leva di azione perché le intenzioni contano ma ancora di più oggi contano le azioni essere rilevanti nel mercato e sostenere il cambiamento attraverso parole canali soluzioni ma quindi sostenere il miglioramento dei comportamenti nostri e di tutte beh anche perché mi permetto di aggiungere questo in conclusione poi ditemi se condividete cioè la differenziazione anche il fatto che si siano accelerati dei processi ha facilitato per certi versi tutti noi perché ci ha dato più possibilità però nello stesso tempo bisogna saper concretizzare ed è quello che stava dicendo appunto Arianna perché tutti tra virgolette lo possono fare la differenza sta proprio in quello che poi si fa effettivamente anche qui sembra banale ma non lo è quindi un'arma a doppio taglio che però insomma con le idee chiare con i giusti progetti e le persone che fanno parte di una stessa sfera insomma questo compito questo lavoro può essere facilitato enormemente siete d'accordo possiamo concludere con questo assunto insomma la puntata secondo voi d'accordissimo dobbiamo esserci per migliorare la vita delle persone ok eh sì assolutamente abbiamo abbiamo imparato qualcosa e ne abbiamo insomma abbiamo sperimentato questo sulla nostra pelle nell'ultimo anno e mezzo dunque puntata decisamente molto interessante The Line al centro dell'attenzione e il marketing oggi l'abbiamo declinato nel settore assicurativo io ringrazio Arianna Nardi Elisabetta Pavan Paola Cozzi di General Italia grazie perché davvero insomma ci date modo anche di prendere qualche appunto per tutti indipendentemente poi dal settore di riferimento grazie per essere stati con noi grazie ciao grazie a presto e grazie naturalmente a tutti voi per averci seguiti speriamo di essere stati utili restate sulle fonti tv con la nostra programmazione buon proseguimento con noi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti